Purtroppo la geografia italiana, che dovrebbe essere nota, ci insegna che noi non abbiamo il controllo dei nostri confini soltanto, ma ce l'hanno anche altri paesi. In particolare l'Austria, la Francia e la Svizzera, che è Schengen ma non è comunità europea. L'Austria e la Francia non sono i nostri amici più cari, quindi attenzione a voler prendersi la responsabilità di dire sì o no a Schengen quando questa decisione potrà invece essere presa da altri paesi.